La società digitale con i suoi diritti, doveri e poteri, ne ha parlato Antonello Soro, presidente garante per la protezione dei dati personali durante la seconda giornata del convegno Comunità convergenti ad Assisi. E dal canto suo, Monsignor Giuseppe Baturi, sottosegretario della CEI, ha ribadito è lecito violare la buona fama per un bene superiore comune, ma non per un prurito informativo o per fare cassetta. La riservatezza appartiene al patrimonio della Chiesa. Ascoltiamo le interviste di Luigi Sparapano. Presidente, un consiglio molto molto pratico. Cosa sente di dire a genitori e figli minori ovviamente, nell'uso responsabile della loro presenza sui social? Voglio dire che la dimensione dei social è una dimensione non virtuale, non è un gioco, è vita reale. E quindi bisogna educare i nostri figli, fin da piccolissimi, a questa nuova dimensione della vita. Mentre insegniamo ai nostri figli che quando c'è il semaforo rosso non si attraversa la strada, e dico la cosa più banale, nessuno insegna, o di solito non viene insegnato ai figli quando mettiamo nelle loro mani un telefono, che è smartphone, che con quello entra in una dimensione della vita piena di insidie. Quindi l'educazione che deve cominciare nella famiglia, nella scuola, è il primo presupposto perché il futuro della nostra nuova organizzazione della vita si è fatto centrandolo sui diritti della dignità delle persone, sul meglio che possiamo ottenere da questa innovazione. Qualche genitore pretende di difendere la privacy dei propri figli, non entrando, non controllando le chat o i movimenti, parlo di bambini o di ragazzi di scuola media. È un atteggiamento corretto? No, mi sembra un atteggiamento superficiale che dà per scontatto che i propri figli sappiano quello che fanno. Allora, Monsignor, un problema molto serio è quello della conservazione dei dati anche nelle parrocchie, considerando che si comincia già dall'iscrizione per il battesimo. Ecco, che cosa deve fare un parroco o suoi delegati in riferimento a questo? Innanzitutto non entrare nel panico, perché ho visto in questi mesi che molti entrano nel panico pensando di dovere accentuare adempimenti burocratici. Invece bisogna avere molto buon senso e bisogna sapere che vi sono degli aiuti da parte della conferenza episcopale attraverso indicazioni concrete che si trovano sul sito dell'ufficio giuridico e anche dei moduli. Quindi si tratta di distinguere le diverse attività della parrocchia, catechismo, gruppo estivo oppure registrazione dei dati e saper cogliere per ogni tipologia il tipo di attività necessaria in riferimento alla base giuridica del trattamento. Quindi nel caso della catechesi è sufficiente dare un'informativa, ma non è necessario avere un consenso. Nel caso della registrazione dei sacramenti non è necessario neanche questo. Bisogna avere una particolare attenzione invece sulla pubblicazione all'esterno di dati e di fotografie, in base al principio della minimizzazione della raccolta dei dati. Cioè io devo raccogliere solo i dati estrettamente necessari a ciò che mi serve fare, non raccogliere dati su patologie della famiglia o su altri dati eccedenti. Particolare attenzione sulla pubblicazione di fotografie, per esempio in occasione di sacramenti, su siti internet. Bisogna lì avere il consenso e chi non dà il consenso però non deve essere distolto dalla possibilità di frequentare il catechismo, di fare la foto, però bisogna avere l'attenzione di oscurare il suo volto. In concreto bisogna essere calmi, ci sono delle indicazioni e leggere dei moduli, delle indicazioni che si trovano anche sul sito nazionale dell'ufficio giuridico. Quindi la piacevole mania di pubblicare centinaia di foto dell'oratorio o di altri eventi non è proprio una prassi pastorale, oltre che di rispetto della persona? È una prassi che può essere contro il rispetto della persona se avviene senza il consenso dell'interessato, del minore, dei genitori o di che esercita la potestà.